bene buongiorno a tutti il piano di queste tre ore di oggi è quello di vedere come javascript lo stesso javascript che abbiamo visto nelle prime settimane di corso funziona nel browser quindi cosa cosa cambia quali funzionalità in più abbiamo nel momento in cui ci andiamo a collocare in un ambiente diverso da node che l'ambiente del browser e io vorrei dedicare tra tutte le tre ore a questo argomento facendo anche un esempio più un esempio relativamente complesso ecco diciamo banalissimo su questo argomento appunto e oggi sarebbe anche previsto lo dico così rimane anche registrato di fare un piccolo set di slide che si chiama this in javascript è una cosa del genere quindi come si usa la keyword this in javascript o meglio quali sono le regole di comportamento della keyword this che sono regole in realtà non tanto da capire quanto da accettare e sapere che in certa situazione succedono determinate cose ma dato che questo argomento su javascript in the browser è un pochino più critico ed è un pochino anche più complesso da capire perché ha tanti aspetti rispetto invece all'applicazione delle regole del DIS che sono così sono regole prescrittive in certe situazioni queste cose capitano e il DIS va usato in questo modo appunto non c'è molto da appunto da capire c'è da accettare che la situazione è quella e sapere eventualmente come reagire e di tutte quelle regole credo che alla fine un paio siano quelle che poi capitano frequentemente quindi poi diventa facile riconoscerle e sapere come agire di conseguenza e mentre le altre possono capitare ma meno diciamo così frequentemente quindi io vorrei indicare questa teoria a questo javascript in the browser proprio perché sia perché ci sarebbe lunedì per il laboratorio ma sia perché molti concetti il DOM, gli eventi, come si importa a file javascript all'interno di HTML sono poi concetti che direttamente o indirettamente ci ritroviamo anche quando dopo Pasqua inizieremo a lavorare con React e quindi è bene avere di nuovo una base di questi concetti forte in modo da poi non aver problemi dopo mentre come dicevo le regole del DIS sono appunto più prescrittive e in questa situazione capita questo appunto quindi per quelle slide, se oggi non riusciamo a farle come io prevedo di non riuscire vi farò un breve video, stavolta dovrebbe essere ancora più breve di quello dell'altra volta da guardare per conto vostro ma potete guardare il video, potete guardare le slide e tutte e due sarà l'anno scorso chi ha fatto il corso ha fatto un video di circa 15-20 minuti sul DIS proprio perché sono, ripeto, una serie di regole e in questo caso succede questo, punto, no? quindi è un qualcosa da sapere, da conoscere ma da, a un certo punto, da non c'è molto da capire, ecco, non c'è molto da poterci fare ci sono dei casi, ci sono delle condizioni, delle cose che capitano riconoscerle e sapere che in quelle condizioni certe cose non si possono fare o si possono fare in un determinato modo come scritto in quelle regole boh, questo è quanto sono 6 o 7 regole che riguardano il DIS detto questo JavaScript in the browser come vi ho scritto su Slack faremo un esempio a partire da quello che abbiamo fatto l'altra volta quindi partiamo dal io l'ho già preparato qui ho fatto una cartella semplicemente con dentro lo stesso file che avete caricato su GitHub la versione, diciamo, completa rispetto a quello che abbiamo fatto in aula quello che appunto si chiama index 3 nel repository dell'altra volta e il suo file CSS che ho rinominato custom giusto per non tenerci style 3 è solo un rinominare i nomi dei file niente di che sono esattamente le stesse cose che abbiamo fatto che avete già sul repository da una settimana ormai quasi una settimana quindi partiamo da questo non ho toccato assolutamente niente è proprio quello scaricato da GitHub e ecco ovviamente dobbiamo apriamolo così lo abbiamo anche qui visibile non aumento tanto lo zoom tanto non ci interessa leggere il dettaglio qua sul browser ma ci interessa vedere che le cose se aggiungono si tolgono quindi al momento posso lasciare questo livello di zoom e ci torneremo di tanto in tanto su questo esempio quindi qualcosa faremo qualcosa nelle slide se c'è qualcosa che possiamo già provare a fare lo facciamo subito e poi torniamo sulle slide allora qual è l'obiettivo di questo javascript nel browser oggi cerchiamo di fare queste cose quindi come si carica un file javascript all'interno di un'applicazione web che cos'è il BOM e il DOM e poi soprattutto come manipoliamo e aggiungiamo dello stile CSS al DOM tramite javascript e anche la gestione degli eventi e infine il form che facciamo da un punto di vista in questo momento teorico lo facciamo nell'esempio non sarà richiesto poi lunedì nel laboratorio ma lo facciamo dal punto di vista teorico adesso e poi lo riprenderemo da un punto di vista pratico con alcune differenze quando faremo React e quando faremo il form in React fra qualche settimana però giusto per darvi di nuovo un'idea di che cosa sono i form e quali sono le loro caratteristiche che poi ci ritroviamo dopo allora come si carica un file javascript nel browser l'abbiamo già fatto l'altra volta se ricordate io a un certo punto l'altra volta ho incollato qui in fondo il javascript di bootstrap va bene lo zoom così lo devo aumentarlo così ok ok quindi l'altra volta avevo incollato questo javascript queste tre righe di file javascript quindi in parte l'abbiamo già importato poi non l'abbiamo usato però l'abbiamo già importato premendolo dal sito di bootstrap quindi vedete come si importa si può vedere già da qui come si importa prendiamone uno solo tanto è uguale c'è un tag script che identifica che quello è appunto uno script javascript se il file è un file esterno se il file è un file esterno c'è un attributo che è src che sta per sorgente dovunque sia il file potrebbe essere locale come il nostro file custom.css se avessimo un custom.javascript qua scriveremmo semplicemente custom.javascript in questo attributo oppure può essere preso da internet quindi avere https http qualunque cosa ci serva e poi l'indirizzo intero compreso il file js l'estensione js in fondo quindi proprio tutto il percorso come ci verrebbe dato in un browser poi in questo caso questo script questo capita con bootstrap capita con alcuni altri script che vengono forniti da internet anche altri due attributi uno sull'integrità per verificare l'integrità di questo file e uno sul il fatto che l'origine e la cross origin sia anonima ma questo l'abbiamo appunto copiato e incollato da bootstrap gli elementi obbligatori che noi scriveremo sempre in realtà sono appunto script src e gli altri se ci vengono forniti come nel caso di bootstrap possiamo scriverli e in questo momento abbiamo messo gli script in fondo al file html prima della chiusura del body quindi mentre il css l'abbiamo scritto nel led e abbiamo scritto l'import diciamo dei file javascript in fondo al body e questi file javascript sono poi ovviamente resi disponibili a tutta la pagina che viene dopo che viene sopra quindi se noi qualcosa qui avesse bisogno qualcosa di bootstrap avesse bisogno di attingere questi file in maniera automatica ovviamente lo può fare perché questi file javascript magari c'è scritto che quando si preme un bottone succede qualcosa e quando magari nel vostro laboratorio si apre la navbar succede qualcosa ecco quel link tra la navbar e tra il comportamento dinamico della navbar e quando è collassata è data da questi file javascript che abbiamo importato in questo modo e resa disposizione all'intera applicazione web quindi javascript può essere caricato da un documento html attraverso il tag script tipicamente si fa esternamente come abbiamo visto adesso per bootstrap si può anche fare internamente nel senso che in line nel senso che si può aprire un tag script chiudere il tag script e in mezzo scrivere file javascript fare codice javascript quindi qua c'è scritto alert ma potrebbe anche essere let variabile uguale a qualcosa quindi proprio scrivere javascript direttamente nell'html questo se usiamo la stessa roba che ho fatto le altre volte questo possiamo cercare di evitarlo come come la peste perché è sempre bene mantenere pulizia e ordine in un certo senso tra chi è responsabile di far cosa l'html è responsabile di strutturare la pagina il css è responsabile di dar lo stile alla pagina il javascript è responsabile di dare dinamismo di caricare elementi di interrogare i server quindi è bene che sia caricato in maniera esterna e indipendente questo ci permette anche di modificare i tre componenti html css javascript in maniera indipendente l'uno dall'altro e anche di riutilizzare lo stesso file javascript per un'altra pagina html che ha una struttura simile a quella che invece quella che per esempio abbiamo all'inizio per cui l'abbiamo creato questo file quindi questo è sempre bene usare un file javascript caricandolo esternamente come abbiamo fatto in bootstrap quindi se proviamo a farlo io posso creare quindi qui un file che chiamo app.js e possiamo scrivere userstreet perché qui a questo punto è javascript è lo stesso javascript che abbiamo visto finora solo che non gira in node ma girerà all'interno del browser e per ora lasciamo lo vuoto e qui sotto questi andiamo a scrivere script src uguale app.js semplicemente quindi questo è il nostro custom CSS il nostro CSS il file CSS che scriviamo noi in cui andremo a metterci qualcosa e poi vediamo cosa possiamo metterci ma per ora carichiamo quindi quella pagina html il file javascript questo app.js a questo punto ha accesso alla pagina html per fare e anche allo stile di quella pagina html così come viene renderizzata dal browser occhio che come vi dicevo vabbè javascript è caricato da uno più file esterni in questo caso nel nostro esempio ne abbiamo tre due di bootstrap e uno che è quello che abbiamo appena creato contate che quando il file javascript viene caricato viene eseguito immediatamente quindi quando arriva a caricare un file javascript il browser si ferma esegue tutto il codice che deve eseguire e poi continua il caricamento dell'html ecco perché l'abbiamo messo al momento l'abbiamo messo in fondo perché perché se noi l'avessimo messo all'inizio cosa succedeva l'avessimo messo nel led è possibile metterlo nel led cosa succedeva succedeva che la pagina prima di iniziare a visualizzare la navbar quindi i miei esami qui avrebbe eseguito tutto il codice che c'era dentro questo poi tutto il codice che c'era dentro questo e poi tutto il codice che in questo caso è vuoto che c'era dentro app.js quindi avrebbe bloccato il caricamento della pagina nell'attesa che questi tre script in questo caso si fossero caricati completamente e questo è un è un qualcosa che non non è bene fare perché non vogliamo bloccare la pagina html per due secondi per tre secondi nell'attesa che tutti i file javascript facciano quello che devono fare e quindi tradizionalmente adesso vedremo che invece in tempi moderni non è più così tradizionalmente il file javascript come ho fatto adesso vanno tutti caricati in fondo alla pagina prima del body questo è quello che capitava tradizionalmente fino a non molti anni fa in realtà proprio per questo motivo per evitare che la pagina venisse bloccata dall'esecuzione dei file javascript in questo modo quando questi file javascript vengono caricata la pagina html è stata interamente formata vedete quando carichiamo questo tutto tutto il contenuto della pagina è già presente e visibile all'interno del browser quindi quando il file si carica viene immediatamente eseguito e poi tutto il resto tutto il resto del processamento continua quindi per esempio html e questo questo ve l'ho già detto tipicamente dove va inserito va inserito alla fine del documento è più efficiente si dovrebbe logicamente inserire nell'head perché perché abbiamo detto che la sezione add è la sezione delle cose che non vengono visualizzate all'interno della pagina quindi il file javascript non viene visualizzato all'interno della pagina quindi sarebbe più corretto da un punto di vista teorico caricarlo nell'head insieme laddove carichiamo i file javascript però c'è questo problema di inefficienza il fatto che viene stoppato il caricamento dell'html finché tutti gli script non vengono caricati e quindi e poi ci sono altri problemi tipo questo che gli script vengono eseguiti quando appunto la pagina magari non c'è ancora quindi magari c'è un file c'è un qualcosa in javascript che va a modificare facciamo finta che in questo app appunto jis ci sia un qualcosa che va a modificare questa tabella beh se viene caricato prima che la tabella effettivamente compaia nella pagina non possiamo modificarla non possiamo aggiungere elementi a questa tabella se questa pagina non è ancora stata caricata di per niente perché non è ancora stato caricato niente nel body quindi questa pagina è completamente vuota quindi questi sono problemi dell'avere questi script nel led come vi dicevo tradizionalmente quindi vengono messi in fondo prima della chiusura del body perché sono più efficienti e non hanno questo problema di inconvenienza e in realtà questo è quello che appunto vi ho detto a voce e quando lo mettete nel led quindi inizia il parsing dell'html quindi inizia a fare il parsing dell'html poi viene preso lo script magari da internet quindi va recuperato da un altro server viene eseguito lo script e poi questo è un tempo di attesa in cui il browser rimane bloccato la pagina web rimane bianca e poi si continua con il parsing dell'html se invece viene messo in fondo al body ovviamente cosa succede? si fa il parsing di tutta l'html e poi quando l'html quasi tutto il body è pronto perché noi l'abbiamo messo in fondo al body come ultimissima istruzione l'html nel body si recuperano gli script e si eseguono gli script uno alla volta ora sarebbe più corretto mettere gli script nel led è più efficiente mettere gli script in fondo al body cosa hanno pensato di fare chi standardizza html5 di aggiungere due attributi di caricamento per gli script che ci permettono di risolvere questa ambiguità questa ambiguità tra sarebbe meglio averli nel led ma li abbiamo nel body perché nel led è più troppo complicato averli hanno aggiunto due attributi uno che si chiama async e uno che si chiama defer questo si chiama come l'async che abbiamo utilizzato ma è solo un nome in comune in questo caso non è un collegamento tra async e wait che ci permettono di spostare gli script nel led che è il loro posto tradizionale che è il loro posto più corretto diciamo così da un punto di vista teorico cosa fanno questi due script guardiamolo nel nel disegno che abbiamo se noi avessimo con async questi script caricati nel led cosa succederebbe succederebbe che inizia il parsing dell'html trova lo script in parallelo il browser scarica gli script li esegue mentre esegue ovviamente aspetta perché deve eseguirli deve eseguirli e poi riprende a fare il parsing dell'html e a questo punto la pagina html è totalmente pronta per essere utilizzata da parte del nostro utente che visualizza l'applicazione web quindi rispetto a prima questo tempo di wait con l'async si è ridotto perché abbiamo parallelizzato il recupero l'apertura diciamo la lettura dei file javascript l'abbiamo messa in parallelo rispetto al parsing dell'html quindi abbiamo ridotto questo tempo di wait col defer vediamo invece questo tempo di wait praticamente lo togliamo del tutto perché il defer mischia un po' i comportamenti del avere gli script in fondo al body e avere lo script nel led con la sync quindi quando il browser inizia a parsificare l'html a un certo punto si accorge che nel led c'è uno script li scarica quindi li legge li apre ma non li esegue quando li esegue li esegue dopo che tutta la pagina html è stata caricata nel browser ed è visibile ed è pronta all'utilizzo a quel punto esegue gli script quindi mischia in un certo senso il comportamento del led di avere tutto nel led nel mondo tradizionale e di avere tutto nel body in fondo al body e sempre nell'approccio tradizionale ora voi capite che questi wait in una pagina web sono sempre qualcosa che vorremmo evitare perché non vogliamo che noi carichiamo la pagina web in parto del tutto e poi tutto si pianta e rimaniamo con una pagina mezza caricata mezza no o una pagina totalmente bianca o una pagina in cui tu clicchi ma non funzionano le cose perché non è ancora finita di caricarsi e quindi quello che è preferibile fare è usare questo attributo defer e quindi spostare gli script nel led che è il loro posto diciamo corretto e aggiungere questo attributo in modo da avere questo comportamento quindi e vedete che il defer è semplicemente prima di src aggiungere la parola chiave defer molto semplice quindi facciamolo visto che l'abbiamo allora cosa vuol dire farlo? vuol dire prendere questo queste tre script tagliarli e andarle a mettere da qualche parte nel led per esempio mettiamoli qui prima del titolo ma potete metterli dove volete anche all'inizio del led non è un problema l'abbiamo sposati nel led mettiamo però attributo defer a tutte e tre così otteniamo quel comportamento e salviamo e se noi aggiorniamo vedete che la pagina ovviamente si carica immediatamente e che non c'è nessun tipo di problema ora l'appoggio yes è vuoto quindi non avremmo avuto comunque nessun tipo di problema questi sono file un pochino più grandi però diciamo che ormai il browser li ha scaricati diverse volte quindi sarebbe stato li avrebbe avuto probabilmente in cache e sarebbe stato veloce lo stesso ecco notate visto che siamo qui che questi file per esempio hanno prima di punto yes un punto min giusto per dirvelo perché vi capiterà di vederlo ancora questo punto min indica che il file javascript è stato minimizzato cioè fatemelo prendere poi non so quanto si veda ma vediamo se no chrome riesce a farcelo vedere bene minimizzato vuol dire che noi non vediamo vuol dire che il file javascript è esattamente corretto sintatticamente corretto ma senza tutti quegli spazi quelle cose che a un browser non servono ma servono a noi per leggere il codice quindi per esempio è il file diciamo bootstrap bundle punto js il bootstrap bundle punto min punto js sono lo stesso file come comportamento e quello che cambia è quello minimizzato non ha tutti gli a capo tutti gli spazi che non servono tutti i commenti i nomi delle variabili sono tipicamente abc quindi non sono nomi leggibili e come dire ricordabili da parte dello sviluppatore e questa minimizzazione è un processo che si fa per rendere i file javascript più piccoli perché togliendo gli spazi togliendo le a capi togliendo i caratteri chiamando le variabili con una lettera sola ovviamente il file javascript da non lo so 30 kilobyte diventa magari 10 kilobyte e allora quando uno non ha tanti da scaricare in una pagina html questa minimizzazione ci permette permette al browser di scaricare più velocemente le informazioni quindi questi file minimizzati è un processo che si fa in maniera automatica se si vuole dopo che uno ha scritto tutto il file javascript ha un'applicazione completa e corretta può minimizzare i file javascript può anche minimizzare il css nello stesso modo in automatico questo processo di minimizzazione appunto rimuove i commenti rimuove gli a capo rimuove gli spazi che non servono rimuove l'identazione e accorce i nomi delle variabili eccetera 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 quindi tutto quello che si può fare per togliere caratteri e quindi ottenere un file più piccolo in dimensioni però come dire concettualmente di comportamento è la stessa cosa del file con tutti gli spazi con tutte le variabili scritte lunghe eccetera quindi tipicamente quando importate qualcosa lo importate con questo min perché è più leggero da un punto di vista di rete ma non cambia niente da un punto di vista pratico poi di esecuzione del codice ecco dove questo codice javascript che abbiamo importato per esempio quello di bootstrap o il nostro app gira gira come in node gira nell'execution environment esattamente come girava in node questo però è un execution environment diverso giusto grazie Tommaso se si incolla il link ovviamente essendo un un link libero si può visualizzare vedete al di là del commento iniziale che dice che cos'è poi vedete che è tutto praticamente illeggibile al netto dello zoom proprio perché ha tutte queste operazioni di minimizzazione Chrome è in grado di deminimizzare un pochino i file javascript se volete se li aprite da ispezione elemento per poterli leggere ovviamente non aggiungere riaggiungere gli spazi riaggiungere a capo non cambia altre cose quindi vedete non lo so che non so se vedete ma che qui la variabile si chiama S o T o E no tutte le variabili sono una lettera proprio per questo motivo per minimizzare lo spazio e in teoria se voi togliete il min e magari lo scrivete giusto vedete lo stesso file non minimizzato e vedete che ci sono tutti gli a capo tutte le indentazioni e che le variabili si chiamano target props eccetera 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 quindi ecco la differenza visuale dicevamo dove gira il codice il codice il codice gira nell'execution environment il nod aveva il suo execution environment che girava sul computer questo è un execution environment che è ristretto all'interno del browser in quella che si chiama la sandbox del browser quindi il browser ha rinchiude il codice javascript all'interno di un environment e del suo execution environment e decide che cosa può fare quel codice rispetto sul computer vero e proprio su cui sta girando e tipicamente non può fare tantissimo anche se recentemente stanno aggiungendo sempre più funzionalità per poter accedere alle risorse del computer tipo la webcam eccetera ma tradizionalmente questa è una sandbox proprio perché il codice javascript del browser non accede al resto del sistema operativo o accede in maniera molto molto controllata al resto del sistema operativo quindi è tutto contenuto nel browser esattamente come no? come il nod solo che quello era un execution environment di un computer quindi aveva accesso al sistema operativo perché girava era pensato e pensato per essere per girare come un processo sul computer quindi in questa sandbox all'interno del browser in questa execution environment abbiamo esattamente come il nod un contesto globale in quello dove scriviamo il codice senza dove scrivere main o quant'altro che in questo caso è un oggetto è tutto racchiuso le cose diciamo così che servono a browser per l'execution environment e qui ci serve per accedere al browser è tutto racchiuso da un oggetto che si chiama window che è un oggetto che è implicito quindi si può scrivere window.document se vogliamo questa proprietà o anche solo document perché essendo nel contesto globale quindi essendo qui quindi qui in questo caso qui possiamo sia scrivere window.document oppure solo document e automaticamente viene inteso che si parla di window perché questo è il contesto globale in questo contesto globale come vi dicevo si può accedere a un set di funzionalità che sono tutto sommato limitate rispetto a quello per esempio che può fare node o un linguaggio di programmazione al di fuori del browser che sono la libreria standard di javascript quella che già quella che già abbiamo visto quindi i cicli i metodi per le string gli oggetti queste cose qui può accedere al BOM e al DOM che sta appunto per browser object e document object che adesso che sono questi indicati qui quindi degli oggetti che sono propri delle funzionalità del browser browser per esempio la location quindi a quale indirizzo http siamo o quale pagina http siamo la history la cronologia del browser quindi da codice javascript potremmo accedere alla cronologia del browser potremmo accedere a quale indirizzo esattamente siamo a le informazioni su lo schermo quindi quanto è grande la finestra eccetera a richieste http da fare rispetto a un server queste sono tutte cose che ci vengono date dal browser perché ovviamente sono funzionalità del browser e poi ci sono le funzionalità invece quelle che è il DOM che è quello che ci interessa un po' di più che è un pochino più completo infatti questa figura non va giù come le altre come l'altra che invece sono gli oggetti riferiti al documento quale documento? beh questo la pagina html quindi la pagina quando parliamo di documento intendiamo sempre la pagina html renderizzata nel browser quindi tutta una serie di funzionalità per manipolare e gestire questa pagina cosa vuol dire manipolare? vuol dire per esempio che vogliamo cambiare il colore a questa intestazione che vogliamo aggiungere cose alla tabella che vogliamo togliere cose alla tabella che vogliamo creare un altro elemento qui che adesso non c'è che vogliamo premere questo bottone e far cancellare questa riga quindi tutte manipolazioni della pagina senza ovviamente ricaricare una nuova pagina quindi senza schiacciare questo bottone e andare in una nuova pagina che si chiama remove html quindi rimanendo sempre in una singola pagina quindi usando di nuovo quel concetto di single page application che vi accennavo nel video sull'architettura web ecco in questo momento stiamo lavorando con script molteplici e ognuno è indipendente dall'altro nel senso che bootstrap ha due script che sono indipendenti l'uno dall'altro noi abbiamo aggiunto un altro script che è indipendente dai primi due può usare le cose dei primi due perché è stato importato sotto gli altri due però sono indipendenti non è che da uno non c'è un modo per linkarli se volete dal javascript lo facciamo implicitamente dall'html per avere una collaborazione diciamo tra moduli tra file più strutturata in cui magari vado ad importare solo un metodo di un certo modo di un certo file o vado ad importare una certa struttura dati di un certo file o vado ad accedere a una certa informazione di un certo file si possono poi utilizzare i moduli e che è un'altra funzionalità html più javascript che vedremo più avanti ma per ora usiamo gli script così come come abbiamo visto per ora quindi li importiamo e poi li scriviamo tutto all'interno di un unico file javascript ora ricorderete e qui ha senso fare questo questo livello di dettaglio ricorderete che quando abbiamo parlato delle cose asincrone vi ho detto che per ora non preoccupiamoci di come javascript fa la sincronicità ma sappiamo che lo fa che javascript è sincrono e quindi è single thread e quindi non può generare processi generare thread paralleli ma riesce comunque a comportarsi in maniera sincrona con le callback e poi con le promise e con la sync await eccetera ecco questo è molto importante e fondamentale nel browser dove la maggior parte del processamento e dell'interazione con un documento con una pagina web avviene attraverso eventi che sono asincroni e questi eventi sono tipo un centinaio di diversi eventi di diversi tipi di eventi cosa intendo per eventi beh intendo che quando voi cliccate qui cliccate questo bottone voi generate un evento che è l'evento di click perché avete cliccato il bottone così come anche questo se clicco questo secondo bottone è un altro evento di click questo sarà un altro evento di click e questo sarà un altro evento di click quando scrivo qualcosa qui questi sono eventi di input da tastiera molteplici ce ne possono essere ci può essere il tasto premuto il tasto rilasciato la pressione dell'invio un tasto specifico premuto eccetera eccetera quindi tutti questi sono eventi che il browser conosce e che il browser tramite javascript può intercettare per fare qualcosa quindi per esempio se io clicco questa x potrei intercettare l'evento di click per cancellare questa riga e questi eventi sono tutti eventi asincroni cosa vuol dire vuol dire che io posso cliccare qui posso cliccare qui e posso cliccare qui e così in fila e avere queste tre righe cancellate una dopo l'altra non è che devo cliccare qui e aspettare che questa riga venga cancellata prima di poter cliccare qui ma posso farlo con il più veloce possibile se voglio e questo lo sperimentate in tutti i siti dove quando voi cliccate su un link quando cliccate su qualcosa non è che aspettate che quell'operazione sia completata prima di poterne fare un'altra potete aprire un menu poi cliccare su un link e il menu intanto si apre anche se voi cliccate da qualche altra parte potete espandere più parti di una pagina web più o meno in parallelo quindi mentre il primo si espande voi potete già dire inizia a espandere la seconda parte quindi tutto questo avviene in maniera assincrona questi eventi sono diciamo un centinaio di diversi tipi e quelli predefiniti come l'evento di click dopo che si possono anche definire degli eventi e definire definire degli eventi in particolari se uno vuole generare un nuovo evento perché non ha bisogno nel codice e poi è sempre possibile definire dei gestori di questi eventi quindi cosa succede quando clicco su quel bottone lì specifico cosa succede quando clicco su quel link specifico quindi posso intercettare l'evento e fare quello che ho bisogno oppure come nel caso del nostro nel nostro caso attuale ignorare l'evento in questo caso tutti quegli eventi di click vengono generati dal browser perché io ovviamente clicco ma vengono ignorati perché non c'è nessuno che si preoccupa di fare qualcosa una volta che ho questi eventi allora come funziona visto che JavaScript è single traded questa cosa qui che abbiamo già visto con le callback asincrone e quando abbiamo fatto node e quindi le promise tutta quella parte lì funziona così funziona che tutto questo è il nostro execution environment in questo nel nostro caso il browser ma nel nostro caso nel nostro caso attuale la stessa cosa si applica per node adesso questo ha degli esempi che sono relativi al browser questo è ovviamente una cosa che node non ha e questa è una cosa che node non ha questo node ce l'ha per esempio e node qui ha per esempio i metodi per leggere da file che invece il browser non ha per aprire il file system quindi questo è l'execution environment all'interno dell'execution environment possiamo distinguere diciamo così questi tre macro blocchi da una parte JavaScript quindi il parser dell'esecutore di JavaScript dall'altra le API che questo è uguale questa è indipendente dall'execution environment questa è sempre identica indipendentemente dal fatto che sia in un browser o sia su node poi abbiamo una serie di API che invece sono specifiche dell'execution environment quindi in questo caso queste sono per il browser sono tre esempi il browser ne ha molti di più quindi la manipolazione del documento la possibilità di fare richiesta HTTP e per esempio set them out node ha il suo set di API che sono specifiche dell'execution environment e alcune di queste tipo set them out sono comuni a entrambe per facilità perché è comodo averlo anche di qui altre la manipolazione di una pagina HTML in node non c'è perché non abbiamo una pagina HTML renderizzata in node e poi un'altra cosa che invece di nuovo comune a tutti l'execution environment è questa parte qui sotto questo event loop e questa callback qui Q allora cosa succede quando noi eseguiamo del codice qualunque codice sincrono o asincrono allora quando javascript quindi javascript prende il file fa il parsing del file ogni volta la prima istruzione la mette qui la mette nel call stack la esegue se questa è una istruzione sincrona la esegue a quel punto mette un'altra istruzione nella call stack esegue anche quella mette una terza istruzione questa terza istruzione è asincrona però cosa succede in questa terza istruzione che questa terza istruzione asincrona va a finire qui facciamo finire che questo sia un time out quindi aspetta due secondi e poi stampa schermo ciao quindi questo è il time out t cosa succede viene eseguita viene spostata qua nell'attesa di due secondi e il resto del codice javascript c'è un altro console log c'è un ciclo for eccetera in quei due secondi viene continua a essere eseguito dopo due secondi che sta qui il nostro time out il time out scade sono passati due secondi e il codice la callback dentro il time out viene a questo punto spostata qui in questa coda delle callback per esempio qua e javascript ha questo meccanismo che è l'event loop che è appunto un loop che ciclicamente controlla se può spostare qualcosa dalla callback queue allo stack e quando c'è qualcosa nella callback queue e lo stack è vuoto javascript cosa fa prende l'execution environment cosa fa prende l'evento nel nostro caso print console.log ciao e lo sposta nella call stack che così lo può eseguire però notate che questo capita quindi viene simulato il comportamento asincrono tramite questo passaggio e notate che questo capita solo quando la call stack è vuota quindi se noi abbiamo un time out di due secondi ma qui nella call stack abbiamo un ciclo for che dura per cinque secondi perché è un ciclo for molto lungo molto complicato fa richiesta al database fa altre cose strane ovviamente questo set time out viene spostato nella callback queue dopo due secondi ma arriverà a essere eseguito da javascript dopo due più cinque secondi quindi il tempo in cui passa il time out più tutto il tempo in cui la call stack si svuota quindi provo a ripetere velocemente e poi ditemi se non avete capito javascript quando esegue il codice mette il codice nella call stack esegue il primo in cima essendo uno stack e se il primo se è sincrono viene eseguito e va avanti ad essere eseguito tutto il resto aspetta che venga finito venga completato l'esecuzione del primo se è asincrono per esempio un timer questo timer una volta che arriva in testa allo stack viene spostato in quest'area diciamo così figurativamente in quest'area dove sta ad aspettare dove sta a fare l'operazione in questo caso può essere un timer ma potrebbe essere anche una manipolazione del DOM nel caso del timer dopo il tempo che dice il timer l'azione corrispondente viene spostata nella callback queue quindi questo in realtà viene spostato qui e poi viene spostato lì quindi questo no quando arriva in testa e viene spostato qui nel frattempo il codice qui continua a essere eseguito ovviamente questo continua tutto a essere eseguito e viene poi il timer l'evento collegato al timer viene spostato nella callback queue e javascript periodicamente controlla il call stack è vuoto no niente il call stack è vuoto no niente la call stack è vuota sì c'è qualcosa nella callback queue che posso spostare se c'è la sposta se non c'è rifà un'altra volta questo ciclo e qui c'è scritto quello che praticamente ho detto e questo è il motivo per cui è importante quando abbiamo detto in javascript normale è importante avere la sincronicità il bloccare il meno possibile perché ovviamente se noi abbiamo un codice bloccante come un ciclo for che dura 5 secondi come nell'esempio di prima vuol dire che tutto questo rimane bloccato vuol dire che javascript rimane qui bloccato su questo per 5 secondi e non importa se qua c'è un time out se c'è altro tutto rimane bloccato perché lui esegue una sola cosa quello che è in cima allo stack quindi se questa è un'operazione molto lunga bloccante blocca tutto blocca tutto in node blocca tutto nella pagina che cosa vuol dire blocca nella pagina vuol dire che se io quando premo un bottone lui ci mette 5 secondi a darmi un risultato io devo aspettare voglio aspettare quei 5 secondi ovviamente la pagina rimane piantata lì io non posso fare nient'altro perché non funzionerebbe nient'altro perché javascript non è in grado di gestire nient'altro e c'è vediamo se riesco a recuperare il link da qua c'è un simulatore dell'event loop per farvi vedere o per vedere se volete come funziona questa cosa chiudi e questo è un programma cosa fa questo programma ha un bottone qui adesso è il netto di cosa è scritto cosa fa questo programma ha un bottone qui che dopo due secondi che viene premuto il bottone stampa schermo hai cliccato il bottone poi c'è un stampa ciao poi c'è un time out che dopo 5 secondi stampa clicca il bottone e poi c'è un'altra console log che dice welcome to loop se noi facciamo run vedete cosa succede questa è la call stack vedete che questo viene spostato qui e anche il time out viene spostato qui dopo 5 secondi il time out viene messo qui e poi dato che la call stack è vuota viene eseguito qui e noi se clicchiamo il bottone viene chiamata questa API viene immediatamente spostata nella call back queue e viene poi spostata qui perché ovviamente è tutto vuoto e quindi viene eseguito immediatamente questo se volete si chiama latentflip.com slash lope e vi permette questo potete scrivere qualunque tipo di codice javascript vogliate che mi permette di vedere cosa succede nell'esecuzione in memoria diciamo così per questa parte di asincronicità con queste callback come abbiamo visto prima di introdurre le promise e la sync domande su questo su questa parte di event loop che ci permette di capire come funzionavano anche le cose ma ovviamente è sempre qualcosa da tenere presente no sì ok allora questo è l'event loop quindi quel meccanismo per cui le cose asincrone funzionano nonostante javascript non sia asincrono quindi non lancia thread ma usa questo meccanismo per funzionare ora passiamo a parlare del browser object model oppure BOM il BOM abbiamo detto ha due oggetti principali uno è questo document che poi rappresenta il DOM che vedremo dopo e poi ha questo oggetto window che è ben detto il capostipite dell'intero contesto e questo oggetto window permette sia di interagire col DOM tramite questo document e in realtà questo document è figlio di window ma anche con questo BOM il modello gli oggetti che sono resi disponibili dal browser che a differenza del DOM non sono standardizzati ufficialmente quindi ci sono alcuni di questi elementi che sono comuni altri tipo questo tipo la versione nuova di questa in realtà che sono standardizzati altri anche la history e in questo momento sta per essere standardizzati altri sono comuni ai browser ma non seguono ufficialmente uno standard differentemente da javascript o differentemente da CSS o di HTML o appunto dal DOM che invece è standardizzato e come dicevo prima questo window può essere omessa quando si scrive codice javascript perché tutto avrà avrà questo capostipite qui che è window quindi anche tutti gli oggetti javascript in teoria hanno questo capostipite che è window che è il contesto globale quindi esiste ma non si scrive praticamente quali sono le proprietà di window? beh alcune le conosciamo già no? console e lo stesso console.log anche qui esiste il console.log che stampa dove non stampa nel terminale perché siamo in un browser ma stampa nella console del browser document serve per accedere come vi dicevo al DOM history serve per accedere alla cronologia attraverso l'history API location la posizione della pagina la URL corrente attualmente aperta il protocollo HTTP HTTPS eccetera e poi altre proprietà per lo storage come local storage session storage che permettono di avere uno storage interno uno storage temporaneo interno al browser quindi proviamo a vedere se intanto funziona facciamo console.log ciao oppure inizio e vedete stesso codice JavaScript che abbiamo già se noi poi andiamo nel tool degli sviluppatori apriamo il tab console in questo momento è vuoto non so quanto voi vediate però se noi salviamo e a questo punto carichiamo di nuovo la pagina lui di nuovo non so quanto lo vediate però se io aumento lo zoom non lo cambia lì però stampa inizio quindi stampa qualcosa stampa questo che abbiamo messo mentre prima era completamente vuoto e noi nella console possiamo anche scrivere nella console console.log ciao e quindi usare come prima con node scriviamo node scriviamo nel terminale codice JavaScript qui nella console possiamo scrivere codice JavaScript nello stesso identico modo in cui facevamo prima quindi la console ci è utile per intercettare per visualizzare errori per stampare informazioni se dobbiamo stamparle quindi un errore finisce per esempio nella console un warning finisce per esempio nella console quindi è bene aprirla di tanto in tanto per verificare che tutto sia a posto in questo momento la console ovviamente non ha nessuna informazione se non questo inizio che abbiamo appena stampato qui da questo console.log Windows ha poi ovviamente degli altri metodi ci sono alcuni metodi che sono alert prompt e confirm che generano queste finestre di dialogo che erano molto molto usate in passato adesso non si usano potete usarle solo per debug giusto per vedere se funziona ma potete anche usare console.log per debug per vedere se è arrivato ad un certo punto e generano questi pop-up in mezzo alla finestra che sono ovviamente stilizzati diversamente in base al browser e in base al sistema operativo poi ci sono gli stessi metodi che avevamo visto quando abbiamo parlato di JavaScript Synchron setTimeout setInterval clearInterval clear insomma tutti i metodi relativi al timeout identici a quelli di node e poi ci sono dei metodi addEventListener e removeEventListener che servono per definire per collegare quegli eventi per esempio l'evento di click a che cosa vogliamo fare quando l'evento di click viene scatenato quando l'evento di click viene intercettato dal browser quindi quando premo click avrò un EventListener che intercetterà il click su uno specifico elemento e farà qualcosa questo qualcosa ovviamente lo decide poi il codice JavaScript con una callback e infine appunto collegati col BOM ci sono anche tutti una serie di metodi per memorizzare dati come i cookie quelli che simpaticamente vedete tutte le volte che aprite un sito nell'Unione Europea ma anche oltre quindi documenti di testo che vengono memorizzati localmente al browser che contengono informazioni di tipo chiave valore e poi qualcosa di più moderno che questo web storage che memorizza in una sorta di piccolo DB all'interno del browser uno è il local storage che memorizza i dati all'interno del browser e quindi non in un file testo come sono i cookie all'interno del browser ma in una specie di DB vero e proprio qualcosa che assomiglia di più a un DB all'interno del browser ed è rispetto ai cookie più sicuro può contenere più informazioni perché è strutturato in maniera più simile a DB e non è trasferibile mentre il cookie si può trasferire dal client dal browser al server e viceversa e lo faremo per l'autenticazione per esempio il local storage è un qualcosa di locale al browser quindi un qualcosa per memorizzare informazioni nel browser e recuperarli in maniera persistente e poi c'è anche che è offerto da HTML5 che è accessibile da JavaScript e poi c'è anche il session storage che è praticamente analogo al local storage la differenza è però che lo session storage memorizza i dati finché e li tiene memorizzati finché il tab in cui il sito web è aperto o il browser sono aperti appena si chiude il tab appena si chiude il browser le informazioni memorizzate nel session storage vengono cancellate mentre nel local storage possono rimanere non dico eternamente ma comunque per molto più tempo indipendentemente dall'apertura o dalla chiusura di finestra del browser e questo è il BOM il BOM non ha grosse proprietà implementa le parti di JavaScript che già conosciamo come setemout e ha queste funzionalità in più alcune da non usare tipo gli alert e altre tipo l'event handler che invece ci saranno poi comodi manipolando il DOM ora il DOM è la parte che ci interessa di più che è la parte più interessante insieme noi sono diciamo forse tre le cose quattro le cose che ci interessano di più di questa lezione l'event loop che abbiamo già visto perché e come funziona JavaScript ma è anche come funzionava JavaScript in Node il DOM perché perché dobbiamo capire come manipoliamo la pagina React poi avrà il suo DOM virtuale ma sotto il copano manipolerà lo stesso DOM che vediamo oggi come manipolare quindi è bene capire come funziona e l'event handler ovviamente collegato quindi tutti gli eventi perché anche React ha degli eventi in parte comuni a questi che vedremo e in parte aggiunti ma funzionano allo stesso modo e infine form perché ci serve poi per mandare informazioni e riceverle e quindi poi vedremo anche vedremo in pratica come si fanno i form in React ma ovviamente tutto quello che abbiamo visto adesso che vedremo oggi è valido anche poi per React solo che il React lo si scrive in maniera diversamente ma la logica è la stessa ma parliamo del DOM ecco potremmo stare qui probabilmente giorni a parlare del DOM di tutte le cose che il DOM può fare non può fare come si fanno cambiamenti 47 modi per fare la stessa cosa con vantaggi e svantaggi ora dato che non è l'obiettivo del corso né di questa lezione andare in profondità nel DOM perché è un concetto interessante che ci serve sapere e ci serve capire per i motivi che vi ho già detto ma dall'altra parte ma dall'altra parte poi noi useremo React che ha il suo DOM virtuale e quindi la manipolazione diretta del DOM ci pensa React a farle in un certo modo in maniera ottimizzata usando quello che ritiene giusto come dire utilizzare quindi noi oggi affronteremo e poi anche nel laboratorio di lunedì affronteremo i concetti e le tecniche principali quelle fondamentali relative al DOM senza entrare eccessivamente in dettaglio su certe cose per dare come solito un approccio pratico e comprensibile auspicabilmente sul perché funzionano le cose e su come le facciamo funzionare e poi andremo a farlo anche tramite esempi nel codice ovviamente però se volete perché vi sentite ispirati o perché siete interessati leggere un po' di più sul DOM c'è questa bel tutorial che abbiamo trovato poco tempo fa che racconta non solo le cose principali che andremo a vedere oggi ma anche alcuni dettagli di più alcuni dettagli che noi saltiamo tipo il bubbling o altri tipi di informazioni così che di nuovo noi saltiamo perché poi fra subito dopo Pasqua ma nella prossima lezione diciamo così inizieremo a parlare di React e quindi se il DOM continua a esserci come vi dicevo continua a utilizzarlo ma React ha il suo DOM virtuale che mappa sul DOM che lei mappa che ci pensa poi il framework a mappare sul DOM reale del browser quindi poi noi andremo a manipolare il virtual DOM di React e non più il DOM vero e proprio quindi certe cose ci vengono nascoste semplificate da React e che ci pensa lei a fare tutta una serie di cose però ripeto i concetti fondamentali vengono trasportati nel virtual DOM come gli eventi per esempio e quindi è bene saperle è bene anche avere un po' di familiarità con queste tecnologie web che è a differenza di React con queste tecnologie web che sono invece standard ma dato che noi poi appunto muoviamo su React non dedichiamo e non dedichiamo eccessivo tempo a queste cose ripeto se volete questo è un bel tutorial chiaro non tanto lungo in cui spiega veramente forse non dico tutto 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 ma il 90% il 95% o un numero del genere di cose sul DOM ecco il DOM a differenza del BOM è standardizzato è standardizzato in questo che viene chiamato Living Standard nel senso che è uno standard come HTML5 che evolve nel tempo quindi aggiungono cose man mano e il browser ovviamente ha bisogno poi di supportare quelle cose come abbiamo visto ci sono quei siti I can use e cose così che ci permettono di tenerci aggiornati e sapere se una certa cosa che usiamo è utilizzata in tutti i browser oppure da quale versione e quant'altro che cos'è il DOM il DOM l'avevamo accennato ma il DOM è la rappresentazione interna di una pagina web ottenuta come? ottenuta parsificando la pagina HTML e strutturandola ad albero quello che abbiamo utilizzato quando abbiamo parlato del CSS per capire come che la proprietà applicata qui si applicava anche a tutti i figli ecco la pagina HTML l'abbiamo detto viene parsificata in una struttura ad albero simile a questa che questa struttura ad albero rappresenta il DOM il modello del documento il modello della pagina web per fare le cose per fare quello che vogliamo per manipolare la pagina web e i browser espongono un API quindi dei metodi per interagire con queste cose per interagire con questo albero e quindi tramite il DOM noi potremmo per esempio in questa tabella aggiungere un altro elemento di tipo TR che a sua volta avrà un elemento di tipo TD poi aggiungere un elemento di tipo TD poi aggiungere un altro elemento di tipo TD per esempio e poi aggiungere il testo all'interno di questo elemento e anche il testo all'interno di questo elemento quindi noi tramite il DOM possiamo fare queste manipolazioni possiamo aggiungere pezzi a questo albero o possiamo togliere interi pezzi dell'albero vogliamo togliere questo e andiamo a cancellare tutto questo div e tutti i suoi figli e anche possiamo cambiare lo stile perché andiamo a prendere la tabella e andiamo a dire che questa tabella ha un nuovo stile CSS ha una nuova classe CSS da applicare quindi il DOM ci permette il DOM è appunto questa rappresentazione della pagina HTML corrente quella renderizzata dal browser e noi tramite JavaScript possiamo manipolare questo albero aggiungendo pezzi modificando pezzi togliendo pezzi quindi togliendo tutto questo togliendo solo questo pezzettino qui cambiando questo testo qui possiamo modificare quello che vogliamo all'interno di questo albero quindi essenzialmente questo e in più possiamo anche queste cose scritte qua le ho appena dette possiamo anche aggiungere questi event listener quindi questi modi per intercettare gli eventi che vengono generati dal browser e fare delle azioni quindi come dicevo prima quando clicchiamo da qualche parte decidere cosa viene fatto dopo che c'è stato il click il DOM è strutturato in questo albero e questo albero ha dei nodi ogni elemento di questo albero si chiama nodo in maniera generica e questi nodi possono essere di vario tipo c'è il nodo che è il document che è la root dell'albero quindi tipicamente HTML poi c'è i nodi di tipo elemento che sono invece i tag HTML quindi quindi per esempio body è un element perché è un tag HTML a è un elemento è un nodo di tipo elemento perché è un è un di nuovo un tag HTML poi ci sono i nodi di tipo attributo che sono invece gli attributi di un tag come type HRF eccetera ci sono i nodi di tipo testo che sono il testo contenuto dentro quindi questo per esempio è il testo è un nodo di tipo testo che è contenuto all'interno di un nodo di tipo elemento che è div quindi questo è il nodo di tipo testo e tutto questo sarebbe meglio l'inizio e la fine diciamo è il contenitore è un nodo di tipo elemento che è un nodo ovviamente generico poi c'è un nodo di tipo commento tipo questo e il document type che è il doc type la dichiarazione di doc type quindi questa cosa qui questa qui è il nodo di tipo doc type che tipicamente non ha un grande non si manipola un granché perché è definita lì però uno può magari volerlo aggiungere se deve creare una pagina HTML da zero questi sono i tipi di nodi e il DOM l'API i metodi che ci permettono di manipolare il DOM servono appunto per manipolare degli insiemi delle liste di nodi e c'è una struttura di dati veri e proprie che si chiama node list che quando noi usiamo certi metodi che ci restituiscono non so tutti i figli di un certo nodo o di un certo elemento HTML questi vengono restituiti in una struttura dati che appunto è di tipo node list che è un array che è un array javascript normalissimo come tutti gli altri e quindi si può applicare tutti i metodi degli array javascript che abbiamo visto finora alla proprietà length si può fare for each si può fare for variabile of array eccetera eccetera tutto quello che abbiamo già visto quando abbiamo parlato degli array javascript quindi node list è una rifinitura di un array javascript essenzialmente allora quali sono questi metodi per esempio per prendere un un node list sono questi riportati nella slide cosa fanno io li definirei in due categorie diverse questa è la prima categoria e questa è la seconda categoria allora la prima categoria sono tutti quei metodi che iniziano con get element o get elements plurale by qualcosa e sono i metodi diciamo così classici sono più vecchi rispetto a quelli della seconda categoria e cosa fanno prendono o un elemento o un insieme di elementi secondo un certo attributo quindi get element by id prende un certo elemento attraverso il suo id quali id? quell'id che scriviamo in un tag html quindi questo id quindi adesso andiamo a scriverlo per esempio qui diciamo che tbody id exam table per esempio ecco questi id possiamo usare get element by id per recuperare questa informazione e ovviamente get element by id è singolare perché in una pagina html dovrebbe esserci un solo elemento che ha quello specifico id per quegli attributi come classe per esempio ho tag name come div che possono essere molteplici nella pagina si usa get elements by class name o tag name quindi voglio tutti gli elementi che sono un div nella pagina voglio tutti gli elementi che hanno come classe btn che è la classe di bottoni in bootstrap allora lì ritornano un odd list di tutti gli elementi con quella con quella classe gli altri due metodi che ho detto possiamo mettere in questa seconda categoria sono funzionalmente equivalenti a quelli precedenti ma sono molto più flessibili nel senso che permettono di fare tutto quello che permettono di fare questi tre precedenti e qualcosa in più e sono due tipi uno è si chiama query selector e uno si chiama query selector all cosa fanno fanno una query all'albero che rappresenta l'html del dom utilizzando i selettori css quindi io voglio fare recuperare un id beh qui dentro andrò a scrivere aperte virgolette cancelletto l'id il nome dell'id del css voglio andare a prendere una classe o un insieme di classi allora magari non uso query selector uso query selector all perché le classi possono esserci molteplici e qui dentro vado a scrivere punto abbiamo detto btn quindi la classe come la scriverei in css perché questo è più flessibile perché io in questo query selector all potrei anche scrivere non lo so div maggiore punto btn sto inventando non lo so virgola qualcos'altro quindi potrei scrivere un selettore anche molto molto complicato esattamente come lo scriverei in css quindi lì dentro ci metto un selettore secondo css quindi sono funzionalmente equivalenti queste due categorie questi sono solo per recuperare il singolo id uno specifico tag e una specifica classe per qualcosa di più complicato se volete i bottoni ma solo all'interno di una certa tabella per esempio si può utilizzare questi altri due metodi che sono più flessibili quindi questi due metodi possono fare tutto quello che fanno i tre metodi precedenti e qualcosa in più allora andiamo a usarne uno per esempio qui e stampiamo il risultato nella console potremmo anche scrivere nella console ma poi diventa troppo piccolo e allora quindi document punto usiamo query selector query selector e visto che l'abbiamo appena creato quell'id che si chiama exam table andiamo a prendere exam table quindi facciamo un selettore di query per exam table e lui dovrebbe restituirci un nodo allora aggiorniamo e ci restituisce null sì giustamente perché questo è un id e quindi devo mettere il cancelletto e non so quanto vedete vediate ma vedete che qui ho tutto il nodo di exam table con tutti i suoi figli e io posso aprirli andare a leggere vedete viene evidenziato man mano che che passo sopra posso aprirli posso andare a leggere posso modificarli e così via ovviamente è una modifica temporanea perché appena ricarico la pagina ovviamente è una modifica fatta solo nel browser nel mio browser che apro questo file non è una modifica salvata da nessuna parte e quindi posso andare a recuperare l'evento se uso query selector all e vado a prendere per esempio tutti i div sperando che ce ne sia più di uno vedete che lui mi ritorna un node list di tre che ha tre div le sono le tre row e se li apro posso andare come prima a vedere cosa c'è una serie di proprietà implicite del nodo e poi anche a un certo punto l'in html quindi che cosa c'è dentro un primo div quindi questo la tabella riassume questo è il primo div e abbiamo un div per ogni riga quindi lui va a prendere tutti i div quindi va a prendere questo con il suo contenuto va a prendere poi il div che contiene tutta la tabella e va a prendere poi il div che contiene il footer quindi ecco i tre nodi e noi a quel punto possiamo andare a fare una stessa operazione su tutti i div per esempio vorremmo aggiungere una classe a questi div e quindi possiamo fare così e poi dire punto qualcosa e andare avanti per esempio for each e quindi per ognuno e a quel punto scrivere il for each esattamente come lo scrivevamo prima di in java scritto normale perché questo è un array e quindi possiamo usare tutti i metodi dell'array vabbè tutti questi metodi che agiscono sui nodi funzionano come abbiamo visto anche sui nodi di tipo elemento e qui c'è ecco l'esempio che un esempio simile a quello che ho appena fatto vedete qui forse si vede meglio questo è un node list in questo caso un node list di due elementi che ha due div al suo interno questo punto bold e questo punto bold punto color sono le classi CSS associata a quei div nel codice vedete questa è uno e questa è l'altro e qui ci sono degli esempi di query selector più un get element by div ma l'equivalente che abbiamo appena visto solo che qui si vede in maniera più grande l'output della console del browser ovviamente questi nodi essendo nodi essendo un albero si può anche navigare non solo selezionando i singoli elementi ma una volta che uno raggiunge un certo elemento ha una serie di attributi una serie di proprietà per accedere ai nodi ad altri nodi che sono correlati a questo quindi per esempio c'è first child che dice qual è il primo figlio di questo nodo quindi se questo è un div e all'interno ha una tabella il primo nodo sarà la tabella e se ha dentro una tabella e un altro div il primo nodo sarà la tabella e il secondo nodo sarà l'altro div child nodes partendo da un nodo o da un elemento ci dice quali sono i figli tutti i nodi figli last child ci dice qual è l'ultimo nodo dell'albero che è figlio di questo nodo qui previous side link e next side link sono invece i fratelli diciamo i parenti prima e dopo di questo nodo quindi quelli che stanno intorno a questo nodo e poi è possibile anche avere un parent node quindi partire da un per esempio non div e sapere qual è l'elemento che lo contiene e poi una volta che una parent node può di nuovo chiamare child nodes e prendere tutti i figli incluso questo che sono contenuti in quel nodo quindi sono tutta una serie di proprietà per navigare anche in questo modo non solo tramite query selector ma anche tramite relazioni di parentela diciamo padre figlio e fratelli diciamo così partendo da un certo modo come avete visto prima le proprietà quando abbiamo visto qui vedete la classe è diventato div.bold ecco questo vale anche quando si scrive in javascript quindi gli attributi di un elemento body id diventano attributi proprietà dell'oggetto javascript quindi body l'oggetto che rappresenta body avrà come proprietà punto id che rappresenta esattamente questo punto id ha anche un punto class name che rappresenta la classe checked a uguale punto checked quindi qualunque attributo può essere oggetto recuperato dal DOM nodo recuperato dal DOM punto il singolo attributo quindi input punto id input punto type input punto check e in alcuni casi si può modificare e in altri casi non si può solo leggere l'attributo in base a quello che l'attributo può fare in html ma per manipolare gli attributi è bene utilizzare non il metodo questo diretto quindi questo va bene per leggere si può utilizzare per leggere ma se uno deve scriverli è bene utilizzare questi metodi scritti qui che come come immaginerete dato un elemento quindi il di il nodo che rappresenta un div per esempio il nodo che rappresenta un oggetto ci sono una serie di metodi che dice as attribute qualcosa as attribute id controlla se l'id è un attributo valido ha un attributo definito all'interno di quello specifico nodo del DOM get attribute prende il valore dell'attributo set attribute imposta l'attributo remove lo cancella attributes da l'elenco di tutti gli attributi e poi c'è matches che controlla se l'elemento fa il match con un certo selettore html certo selettore css quindi se un div matcherebbe il punto non lo so il div questo ovviamente sì così punto btn quindi potrebbe verificare se questo div matcherebbe verrebbe restituito da questo tipo di selettore quindi può essere anche utile per verificare ok se è un div di tipo bottone esattamente in questo modo ok altrimenti magari voglio modificare il selettore perché devo farci qualcosa e magari questo maggiore sbagliato ci basta solo scrivere così o quant'altro quindi fa un match tra un elemento tra un nodo di tipo elemento e un selettore css per vedere se quel selettore recupererebbe quell'elemento allo stesso modo gli elementi si possono creare e questo poi lo vediamo in un esempio fra poco e si possono creare o di tipo element quindi come in questo caso dov'è per creare un div create element div oppure possiamo creare un nodo testuale con create text node e il testo all'interno dell'elemento si può creare o con create text node oppure con proprietà inner text come in questo caso che imposta per gli elementi che lo hanno il testo interno quindi il testo interno è questo quindi il testo che è compreso tra i due tag del tra i due tag che rappresentano all'inizio e alla fine dell'elemento come vi dicevo prima class come attributo non esiste mentre punti di esiste class è l'unica eccezione perché class ovviamente è una parola riservata in javascript quindi in questo caso si chiama appunto class name fatemi vedere quanto ci manca non tanto finirei prima della pausa ovviamente noi però abbiamo visto come si creano come si recuperano elementi o come si creano elementi ma non basta creare un elemento se voi fate una cosa del genere l'elemento non viene non viene aggiunto alla pagina html viene solo creato javascript crea l'elemento nel dom crea un pezzo di albero ma non lo collega al resto dell'albero per collegarlo bisogna inserirlo quindi lo si crea e poi lo si inserisce se lo si crea solo non viene visualizzato e questo è molto importante perché è una causa tipica di errori il fatto che io creo un elemento e magari creo il figlio di questo elemento e poi mi dimentico di aggiungere il figlio all'elemento padre oppure mi dimentico di aggiungere l'elemento padre all'intera pagina html nel posto in cui voglio inserirla quindi se non viene inserita l'elemento ovviamente è stato creato ma rimane in memoria non appare e come si può aggiungere elementi al dom ci sono vari modi per aggiungere elementi al dom ci sono modi che funzionano con i nodi e metodi che funzionano per inserire direttamente nel codice html di tipo testuale e questi sono i modi che esistono per inserire figli append child aggiunge il figlio direttamente come primo figlio insert before per aggiungere un nodo prima vedete qui prima di un certo elemento quindi voglio aggiungere questo prima dell'ol lo aggiungo prima replace se voglio rimpiazzare scusate insert before inserisco questo prima di questo nodo che specifico qui replace child se invece voglio prendere un nodo e rimpiazzarlo quindi cancellare un nodo vecchio mettere quello al suo posto dovunque esso sia partendo dall'elemento padre ovviamente oppure ci sono questi questi metodi append prepend before after replace with che sono più flessibili rispetto a questi e appunto permettono data una certa un certo tipo di albero una certa porzione di albero di appendere o prependere i nodi in certe posizioni quindi append un nodo partendo da ol lo metterebbe qui aggiungerebbe un li in fondo se fosse un after lo aggiungerebbe dopo tutto il pezzettino quindi ol append lo mette qui ol after lo mette dopo ol before lo mette prima dell'elemento quindi ol è questo in questo esempio e ol prepend lo mette come primo figlio essenzialmente ora questo se riuscite a ricordarvelo bene se no ve lo potete guardare da una figura tipo questa non è un problema però after lo aggiunge dopo after e before sono i facili after lo aggiunge dopo l'elemento dopo il nod before lo aggiunge subito prima prepend lo aggiunge come primo figlio e append lo aggiunge in fondo a tutti i figli che ha in questo caso se non ha lista lo aggiungerebbe qui sotto e anche come vi dicevo è possibile aggiungere direttamente dell'html quindi non del creare un elemento creare un nodo eccetera eccetera ma aggiungere direttamente l'html quindi con inner html è possibile recuperare l'html che rappresenta rappresentato all'interno di un nodo quindi div.in inner html restituisce questo con tutti gli attributi html e tag html che sono inclusi proprio come se faceste il copy in colla della pagina html ed è anche possibile fare ovviamente inner html uguale qualcosa che sia un html valido per inserire nell'html di questo elemento quello che ci interessa come html quindi senza creare gli elementi senza creare gli oggetti eccetera quindi per aggiungere un frammento di html e anche qui ci sono i modi come prima il prepend l'append per inserirli nelle varie posizioni solo che questi sono su un unico metodo che si chiama insert adiacent html dove il before begin è equivalente al vecchio al precedente before l'after end è dopo la fine dell'elemento quindi dell'ol before end è in coda all'ultimo figlio e after begin è subito all'inizio come primo figlio questo insert adiacent esiste per l'html ma esiste anche nel formato testo e esiste anche nel formato elemento quindi posso aggiungere un insert adiacent con queste proprietà come text node e posso anche aggiungere un insert adiacent con queste proprietà come element node vero e proprio quindi non come html grezzo contate che questa operazione è molto comoda ovviamente ma ha diciamo così un problema di sicurezza nel momento in cui questo fragmento solo ed esclusivamente nel momento in cui questo fragmento è in realtà questo in html viene chiamato a partire da un input dato dall'utente quindi se io quello che scrivo qui per esempio lo mettessi direttamente in inner html io qui potrei permettere all'utente di scrivere dell'html e allora questo può dare adito a problemi perché magari questo html in realtà ha dentro del javascript che fa delle cose che non dovrebbe fare quindi attenzione quando si usa inner html non è un problema mai tranne quando si prende dell'input dall'utente e lo si butta direttamente dentro l'inner html e ovviamente se quell'input dell'utente viene prima controllato verificato quindi qui ci deve essere della stringa se io scrivo strong javascript potrebbe verificare che quello non è o meglio qui se io qui metto a scrivere dell'html javascript potrebbe verificare che il contenuto prima di inserirlo fosse sia un numero perché qui nient'altro che un numero di uno o due cifre ci può stare quindi è inutile accettare altri tipi di input quindi se usate inner html va benissimo usarlo molto comodo in realtà lo vedremo per certe cose rispetto a creare un elemento a mano o no da mano ma se lo usate direttamente da input da utente fate attenzione perché è bene sempre controllare quello che viene passato dall'utente in modo che un utente malevolo non possa qui iniettare del codice javascript tramite html quindi rompere la pagina o fare operazioni distruttive se la pagina fosse collegata a un server quindi a un database eccetera è anche poi possibile clonare i nodi quindi un pezzo di un albero clonarlo fare una copia esatta sia una deep copy sia una shallow copy quindi con tutti i figli fino all'ultimissimo figlio ai figli dei figli eccetera oppure solo diciamo il contenitore e infine come vi dicevo è anche possibile stilizzare l'html quindi aggiungere modificare il css questo lo si fa tipicamente per recuperare attraverso class name perché class è una parola chiave riservata e poi c'è un'altra proprietà che si chiama class list che ha dei metodi add, remove, toggle e contains che permettono di aggiungere a un certo elemento quindi div.classlist.add col 3 aggiunge la classe col 3 alle altre class se ci fossero o altrimenti crea un attributo class e le aggiunge col 3 a quell'elemento remove rimuove se c'è la classe da quell'elemento toggle se c'è la rimuove se non c'è l'aggiunge contains verifica se un certo elemento ha una certa classe perché perché magari se c'è questa certa classe la devo cambiare invece di col 3 quindi stare su tre colonne devo mettere un col 6 quindi verifico se c'è col 3 e se c'è col 3 aggiungo add col 6 se invece c'è col 6 aggiungo rimuovo col 6 e aggiungo col 3 per esempio in maniera analoga se uno non volesse lavorare sulle classi o volesse lavorare direttamente sullo stile sullo stile inline dell'elemento c'è anche l'attributo stile che contiene tutte le proprietà css collegate a quell'elemento e get computed style che prende tutte le proprietà più quelle calcolate dal browser dove per quelle proprietà che hanno dei trattini ovviamente in javascript background meno color non è un nome di proprietà non è un nome literal valido e quindi in questi casi dove c'è il trattino si usa il camel case e viene automaticamente tradotta nel camel case e viceversa quindi background color nel javascript diventerà poi background meno color nell'html quando leggete dall'html background meno color lo dovete leggere come background color con la c maiuscola tutto chiaro finora? poi adesso facciamo anche un esempio adesso dopo facciamo anche un esempio con buona parte di queste cose ok allora adesso quello che facciamo facciamo due cose poi ovviamente un'associazione studentesca mi ha chiesto facciamo due cose una è un'associazione studentesca mi ha chiesto di fare un piccolo intervento quindi facciamo questo piccolo intervento se la persona c'è stop la registrazione e poi subito dopo facciamo la pausa o meglio colleghiamo la pausa questo intervento e poi riprendiamo subito dopo con gli eventi fatemi stoppare la registrazione con gli eventi